La rivoluzione energetica a Pescara parte dagli edifici scolastici. Messaggio dal sapore simbolico perché è proprio sui banchi di scuola che deve nascere la consapevolezza di una città e di un mondo capace di attuare quella che viene considerata l'ultima frontiera del risparmio per contribuire alla transizione energetica. Strumento importante e potente per rendere consapevoli tutti del diverso modo di produrre e consumare energia è la CER acronimo di comunità energetica rinnovabile che consiste in una associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Il comune di Pescara ha avuto un grande rilievo in questa avventura fornendo gli strumenti e le risorse necessarie per realizzare gli impianti. Grazie al progetto CER Pescara, la prima comunità energetica supportata da Pescara Energia, società partecipata al 100% dal comune, sono stati già realizzati diversi impianti fotovoltaici sulle scuole cittadine collocando l'amministrazione tra i primi enti pubblici ad essere promotore nella diffusione delle comunità energetiche. Si diceva delle scuole ed è proprio dalla primaria in via Carlo Alberto dalla Chiesa, comprensivo 5, che parte il nostro viaggio. Questa è un esempio della riqualificazione energetica di tante scuole di Pescara che sono state fatte, parliamo di 19 edifici scolastici riqualificati energeticamente con il rifacimento del cappotto termico, con gli infissi e quindi scuole per buona parte anche con il relamping interno. Questa scuola si automantiene, nel senso che è dotata sul tetto di un impianto fotovoltaico come altre 7 scuole di Pescara, produce energia sufficiente per poter mantenere energeticamente l'edificio e ne produce in eccesso e questa poi andrà a fornire queste comunità energetiche di cui tu mi hai parlato. Pescara è uno delle best practice in Italia, abbiamo fatto ultimamente l'iscrizione al portale del GSE perché noi tutta la parte amministrativa è stata svolta ed è stata completata. Aspettiamo adesso dal GSE il fatto che queste carte vengono certificate e a quel punto potremo partire con la prima comunità energetica a Pescara ma credo forse una delle prime comunità energetiche in Italia gestite dal pubblico. Una domanda mi sorge spontanea, quando la scuola sarà chiusa per il periodo estivo naturalmente questa energia può essere condivisa. Assolutamente sì, durante il periodo estivo sicuramente ci sarà una quantità maggiore di energia che potrà andare in rete e potrà essere fruita dai cittadini di Pescara che ne soffriranno in maniera gratuita. Gratuita cosa vuol dire? Che al cittadino di Pescara non ci sarà nessuno sconto sulla bolletta ma il cittadino di Pescara che si iscrive alla CER quindi alla comunità energetica a fine anno direttamente dal GSE verrà inviato un bonifico sul conto corrente corrispondente alla quota parte di spettanza per far parte della comunità energetica. Voi come Pescara Energia ricordava siete un po' i pionieri in Italia, ci avete creduto e scommesso sin dalle primissime ore? Ci abbiamo creduto già da due anni e mezzo, da tre anni quando si è iniziato a parlare in maniera molto soft di comunità energetiche e abbiamo fatto tutto un percorso perché la parte amministrativa devo essere sincero è stata una parte molto difficile perché le normative cambiano continuamente per cui c'è uno staff all'interno di Pescara Energia e ci sono dei consulenti che ci hanno supportato in questo periodo qui che ci hanno permesso di poter formare perché la comunità energetica è stata già oramai formata perché l'atto è stato depositato dal notaio e quindi diciamo che noi siamo pronti, aspettiamo solamente a questo punto l'8 di aprile il GSE ha aperto il portale per poterci iscrivere ufficialmente, noi abbiamo inviato già tutta la documentazione stiamo aspettando risposta dal GSE per vedere se c'è qualcosa che dobbiamo in qualche maniera ancora integrare o se possiamo partire. Ingegnere Caruso io partirei proprio dai numeri che sono alle sue spalle, che cosa indicano, cosa significa no? Sì, sono numeri che danno proprio la quantità del risultato che abbiamo ottenuto, abbiamo il primo numero che è l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, i kilowattora e siamo orgogliosi di poter dire che il 15% di tutta l'energia che consumiamo con gli edifici comunali oggi è coperta dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi dai nostri 7 impianti da 700 kilowatt che abbiamo realizzato sulle scuole e siamo pronti a raddoppiare questo numero nei prossimi anni, quindi nel giro di 3 anni arriveremo a coprire il 50% del fabbisogno dell'energia dei nostri edifici tramite energia da fonte rinnovabile, tramite l'energia solare. E poi abbiamo anche gli altri due numeri che rappresentano la CO2 che è stata non emessa grazie all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici e il numero di alberi equivalenti, quindi l'equivalenza dal punto di vista del risultato ambientale che noi abbiamo raggiunto grazie a questi impianti fotovoltaici. Insomma, riassumendo, sono i benefici che può dare la CER, benefici ambientali, economici e sociali? Sì, sono proprio i numeri pratici, tangibili di tutta questa iniziativa che noi stiamo portando avanti per la sostenibilità della città di Pescara. Sono numeri che sono concreti, che traducono tutta la nostra azione amministrativa in qualcosa di veramente concreto. I sette impianti che abbiamo realizzato sulle scuole, per un totale di 700 kilowatt, possono sembrare delle produzioni locali, ma in realtà grazie alle nuove tecnologie, al nuovo sviluppo e alle nuove comunità energetiche consentono una condivisione virtuale. Quindi questa energia che viene prodotta in eccesso su questi siti viene poi distribuita a tutti gli impianti non solo di proprietà del Comune, ma anche dei cittadini grazie alla comunità, la CER, CER Pescara, la comunità che abbiamo già costituito e che è pronta ad aprire le porte alla cittadinanza. La legge non specifica la tecnologia rinnovabile da adottare, però credo che quella solare sia la migliore. Sì, la legge ammette tutte le fondi di energie rinnovabili. Certamente quella solare per un'area molto urbanizzata come è il territorio del Comune di Pescara è quella che si presta maggiormente ad ottenere un risultato immediato e tangibile. Senza dubbio è un segnale importante di crescita della scuola come polo all'interno della comunità cittadina. Quindi è il segnale di un'importante interazione tra scuola e territorio e che va oltretutto a rendere ancora più bella, più attrattiva la nostra scuola nella quale sono stati fatti importanti investimenti anche col PNRR e per cui c'è un'innovazione didattica in corso che si sposa bene con gli aspetti estetici e di efficienza che le Comune ci hanno messo a disposizione. All'interno della scuola ci sono dei bambini. È stato spiegato loro il tipo di intervento che è stato fatto? Certamente in tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia fino alla scuola primaria, si dedica molto spazio alla sostenibilità e all'educazione ambientale e civica. Quindi è un percorso che si integra perfettamente con il curriculum. Chiusura con le voci dell'amministrazione comunale. L'assessore con deleghe alla pubblica istituzione e alle politiche energetiche Giovanni Santilli e il sindaco Carlo Masci. Noi stiamo facendo un bellissimo lavoro su tutte le nostre scuole di Pescara. Ne abbiamo già sistemate 19 e ne abbiamo in programma almeno a 367. arriveranno a giorni dei progetti e porteremo avanti la riqualificazione delle nostre scuole. Questa è il Fiore all'Occhiello, una delle scuole più belle che abbiamo risistemato, il piano T, dove c'è praticamente la scuola dell'infanzia, la primaria e l'asilo nito. Quindi è un ambiente molto molto bello che si trova in una periferia della nostra città. Quindi noi non abbandoniamo nessun luogo di Pescara. Quindi sulle scuole abbiamo lavorato e lavoreremo per far sì che tutti e 54 i prestiti scolastici siano riqualificati. È davvero una bella scuola soprattutto per l'allegria e i colori che esprime, no? Allora questo è un progetto che noi ci siamo, come abbiamo organizzato, per le nostre scuole. Ogni scuola diamo dei colori proprio per far sì che i bambini che frequentano queste scuole abbiano dei colori, colori vivi e quindi stiamo riqualificando le scuole, dando ad ognuno un colore diverso ma sempre dei colori molto ma molto belli. A proposito di colori, Pescara è sempre più green? Assolutamente sì, stiamo lavorando tantissimo perché stiamo rendendo veramente Pescara bellissima. Chiunque viene nella nostra città ne rimane entusiasta. Quindi stiamo felicissimi dei cinque anni di lavoro che abbiamo fatto. Sindaco Masci, possiamo dire che la rivoluzione energetica a Pescara parte dalle scuole? Sì, lo possiamo dire con forza perché la transizione energetica di cui tutti parlano poi a Pescara concretamente è stata attuata in questi anni attraverso la trasformazione delle nostre scuole perché con i fondi del PNRR e i fondi della Banca Europea degli investimenti noi abbiamo fatto molti interventi nelle scuole, in particolare in 14 scuole e anche negli impianti sportivi abbiamo introdotto i pannelli fotovoltaici che ci permettono di produrre un megawatt di energia per fare in modo che le scuole possano essere alimentate a costo zero per i cittadini e in più questo megawatt di energia può essere messo a disposizione delle comunità energetiche per diminuire la tariffazione energetica, la bollettazione per tutta una serie di persone che si inseriscono all'interno della comunità energetica. Il mondo sta cambiando velocemente, questo cambiamento o si gestisce e si guida o si viene travolti. A Pescara lo stiamo guidando nella maniera migliore, oggi abbiamo scuole che hanno infissi nuovi, hanno il cappotto all'esterno con nuovi colori, ma questa rivoluzione energetica che passa attraverso il consumo zero nelle scuole ha un impatto incredibile anche per quanto riguarda le emissioni di CO2 nell'aria perché diminuiscono enormemente. C'è un passaggio importante in questo periodo in città e nel mondo in generale. Noi ci siamo adeguati e lo stiamo conducendo nel migliore dei modi, ma con tutte le trasformazioni che ci sono in città, dalle nuove piante alle nuove scuole, ai nuovi impianti sportivi. Insomma un modello virtuoso da replicare. Sì, noi vogliamo che questo modello sia introdotto in tutte le scuole di Pescara perché in tutte le scuole vogliamo che ci siano impianti fotovoltagi che producono energia a costo zero per i cittadini e soprattutto che non immettano CO2 nell'aria. e lo faremo con gli ulteriori fondi che stanno arrivando e anche con tutta una serie di agevolazioni che ci sono attorno al discorso della sostenibilità energetica e sostenibilità ambientale che noi stiamo sfruttando appieno attraverso la nostra società partecipata, Pescara Energia, che è 100% comune di Pescara ma che ha un'operatività sul territorio molto più veloce di un ente pubblico. e si vede perché le trasformazioni sono in atto e stanno andando velocemente. Noi oggi siamo fra le prime città d'Italia che stanno sfruttando le risorse che ci vengono dalla sostenibilità ambientale e questo è un bene per i cittadini. Tutti questi interventi sono possibili grazie ai fondi del PNRR, però bisogna anche essere molto veloci. Noi lo diciamo sempre perché i fondi del PNRR sono arrivati dopo il Covid. L'emergenza Covid è finita ad aprile 2022. I primi bandi del PNRR sono arrivati a settembre del 2022, quindi veramente meno di due anni fa. Noi in questo tempo brevissimo abbiamo messo in campo 120 milioni di euro di lavori di cui più della metà PNRR che ci imponeva la velocità degli atti perché se un comune era in grado di sfruttare il PNRR facendo i lavori in tempi brevi avrebbe ottenuto i soldi e noi lo stiamo facendo. Non abbiamo fallito nulla sul PNRR, i cittadini vedono tanti lavori in campo, c'è anche qualche disagio naturalmente perché se si fanno 120 milioni di lavori quando mediamente se ne facevano tra i 10 e i 15 milioni sicuramente se ne vedono tanti. Però questa è la rivoluzione nuova che stiamo attuando e che riguarda la sostenibilità energetica, la sostenibilità civica, una trasformazione complessiva del tessuto urbano. Però tutte queste cose generano anche qualche polemica che noi sopportiamo spiegando che il periodo storico è talmente importante che non possiamo farci trovare impreparati. Devo dire che tutti stiamo rispondendo bene, dalle società partecipate ai dipendenti del comune che non guardano gli orari per lavorare perché tutti hanno capito che oggi o riusciamo a cogliere a pieno il cambiamento e quindi a sfruttare tutte le potenzialità del cambiamento oppure rimaniamo tagliati fuori. Faccio un esempio, le piante che stiamo sostituendo a Corso Umberto e cinque anni fa quelle piante, io avevo detto che erano morte, le avremmo sostituite tutte quante, vengono fuori da un finanziamento che è basato sul contrasto al cambiamento climatico. Quei soldi oggi ci sono, oggi noi possiamo sfruttarli, oggi noi possiamo mettere in campo quelle operazioni che ci permettono di mettere a dimora nuove piante. Se perdiamo l'occasione rimaniamo piante morte e noi lo abbiamo fatto, così come in tante altre occasioni.